ecco montato il marsupietto da bici la borsetta sopra porta cellulare il montaggio è rapido grazie alle tre fascette in velcro tirabili e regolabili allo stesso tempo è anche velocissimo da smontare essendo che basta tirare uno strap e si smonta è abbastanza capiente c'è già il telefono messo dentro ci sono le due zip questo è lo spazio che c'è all'interno come se avete visto nella foto si sta portafoglio chiavi cuffie e fazzoletti e altro non ci sta la bottiglia dell'acqua vabbè ma quella c'è il porta borraccia il telefono si incastra e viene mantenuto sopra tramite questo strap viene mantenuto adeso al vetro sopra dal vetro a questa sorta di tpu siliconico poi si chiude allora la cosa molto bella è che essendo touch io adesso lo sblocco facciale perciò sbloccato il telefono solo con la faccia e poi funziona tutto come se avessimo il telefono in mano molto sensibile c'è questa parasole per quando si va in bici che aiuta a vedere magari il navigatore se usiamo il navigatore o qualche applicazione o solo semplicemente come faccio io lo uso per per avere qua se qualcuno mi chiama vedo chi mi chiama non collassa un'altra cosa molto importante che non collassa perché la struttura è rigida perciò se non è pieno resta se mantiene sempre la forma cosa molto molto apprezzata in questo caso e va bene sia per questo tipo di bici che ha il tubo basso sia per il tipo di mountain bike normale normale con il tubo normale dritto o altri tipi di bici più moderne